Il consumo della frutta è nel caso di un partito della comparsa dell'uomo sulla terra. Se pensiamo infatti al pariolipico, le burlazioni erano nomadi e si spostavano in continuazione privi della presenza degli animali e poi della caccia e della frutta raccolta dagli alberi. Ed ora un piccolo addoto. Sapevate che gli alberi non sono il cibo che contiene più vitamina C? Infatti è il kiwi quello che ne contiene di più. Vari a 80 mg per 100 grammi. Il gruppo molto probabilmente si spostava seguendo le indicazioni delle donne racquilibrici. E adesso una domanda vero o falso. Mangiare le carote aiuta l'abbronzatura? Vero! Le carote sono ricche di carotenoidi, precursori della vitamina A che stimolano la produzione di melanina e combattono i radicali liberi, proteggendo la pelle dall'invecchiamento precoce. Naturalmente per un'abbronzatura perfetta bisogna non esagerare. Un eccesso di carotene provocò un'antistetica colorazione dallo scuro. La mela aiuta a prevenire diversi tumori e inoltre contiene ferori che abbassano il colesterolo cattivo e alzano quello buono. Consegnando la mela ad Afrodite pare di si assicurò il favore della dea e l'amore della bella Elena. Ebbe così inizio la guerra di Troia. Grazie a tutti.